Grazie 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 Allora adesso Noi che cosa dobbiamo fare? Perché non c'è nello tempo per scrivere Il nome suo su Allora lui lo scriverà da solo firmandola Io la firmerò e poi la metteremo all'asta E daremo alla famiglia che mi ha più bisogno Il cavato di quest'anno E noi la facciamo? E le donne potrebbero scegliere La sua doradella Avviva Vedevolo Perché ha scelto proprio la marcia da Vedevolo? Perché c'era Vedevolo Riccardo che un'amore Va bene Vedevolo Ragazzi Giù ragazzi praise Tur circumstances Giù ragazzi Ecco Qu'argh B B Stigli Ren Say Grazie